Quindicesima edizione del Paglio del Barone, con noi è il sindaco di Tortoreto Alessandra Ricchi. Sindaco, dicevamo in conferenza stampa, quindicesima edizione, grande evento. Come mai questo titolo? Sì, questo è un titolo che è stato riconosciuto dal Consiglio Comunale del Comune di Tortoreto già diversi anni fa. È stato conferito al Paglio proprio per la rievocazione storica, che è unica non solo per il nostro Paese, ma anche a livello regionale. Non sono molte le rievocazioni storiche e per la valenza anche culturale, quindi non solo di spettacolo, comunque di evento turistico, ma legato alle origini del nostro territorio. Un bilancio sicuramente positivo, anche alla luce della manifestazione che si è appena conclusa a luglio, tutti i colori del Palio. È stato veramente un esperimento, ma un esperimento riuscito, quindi c'è stato un bel successo. 15 anni è un bel traguardo, quindi questa manifestazione aggiuntiva è la dimostrazione del fatto che il Palio sia cresciuto. E adesso ci saranno le serate dell'11 agosto e del 16, quindi la serata inaugurale a Tortoreto Lido e poi quella del Palio vero e proprio con la sfida dei rioni storici di Tortoreto. Il Tortoreto non è soltanto metaturistica per il suo mare e per il suo lungomare, ma anche per il suo borgo, per il suo centro storico e per la sua storia anche medievale. Quindi cerchiamo di unire quest'anno, come da 15 anni a questa parte, questo aspetto culturale che dobbiamo ancora approfondire, che comunque è un aspetto sicuramente turistico attraente, con tutto il resto che è il nostro scenario naturale unico ed univoco.